Antibigilia di Taranto Casertana e prime indicazioni per Capuano relativamente all'undici titolare. Il tecnico dovrebbe puntare sul fattore continuità anche perché nella gara contro il Brindisi la squadra è apparsa ben schierata e soprattutto concentrata. Sono diversi i ballottaggi ma chi è scese in campo sabato scorso dovrebbe spuntarla. In difesa il dubbio principale riguarda la zona sinistra del campo. Luciani è favorito su De Santis anche se quest'ultimo rimane una valida alternativa. In caso di scelta del minutaggio, a oggi ipotesi più remota, invece il posto potrebbe essere ad appannaggio del rientrante Enrici. L'altro dubbio riguarda il partner di Calvano in mediana. Zonta, Romano e Fiorani scalpitano ma a spuntarla dovrebbe essere l'ex Vicenza nonostante di recente sia apparso un po' sottotono. In attacco invece spazio all'artiglieria pesante, Cianci terminale offensivo affiancato sulla destra da Canutè e sulla sinistra da uno tra Orlando e Fabbro con il primo autore dell'assist decisivo sabato scorso ancora favorito, assente Bifulco che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica.